Il contratto è scaduto e il padrone di casa non intende rinnovarlo. La questione delicata è di difficile definizione. L'assessore alla Polizia Municipale Silvio Caracappa vorrebbe risolverla dopo l'approvazione del bilancio comunale, ma quello che abbiamo definito padrone di casa, ossia il liquidatore delle terme di Sciacca e Seppia Carlo Turriciano, non è d'accordo. Insomma, allo stato delle cose, venerdì 21 ottobre, ossia tra tre giorni, il comando di Polizia Municipale Giovanni Fazio deve sloggiare dai locali dell'ex Motelagip, di proprietà delle terme di Sciacca e Seppia, dove si era trasferito recentemente. Deve farlo urgentemente perché quei locali non sono sicuri, occorrono lavori di messa in sicurezza per i quali occorrono 30.000 euro. Lavori che, dice il commissario liquidatore delle terme, il Comune avrebbe già dovuto effettuare, cosa che invece non ha fatto. Il problema, manco a dirlo, è economico. Servono infatti almeno 30.000 euro. La volontà del Comune di Sciacca a mettere a disposizione questa cifra ci sarebbe, ma senza il bilancio regolarmente approvato questo non è stato ancora possibile. E prima del 27 ottobre, l'aggiunta di Paola, il bilancio non l'avrà ancora approvato, ma la questione non è certo riducibile a pochi giorni. No, perché poi il bilancio dovrà seguire la trafia del Collegio dei Revisori dei Conti, della Commissione Finanze e, infine, deve essere approvato in Consiglio Comunale. La vicenda dei locali della Polizia Municipale fa discutere e vede sullo sfondo anche una relazione tecnica disposta da Carlo Turriciano. Relazione tecnica che definisce quei locali non sicuri dal punto di vista strutturale. Un nuovo eventuale contratto di comodato d'uso come comando di Polizia Municipale, teoricamente potrebbe essere stipulato, ma la questione rileva dal punto di vista delle responsabilità. Turriciano non intende più assumersi quella di mettere a disposizione i locali dell'ex motelagip dichiarati inidonie da una specifica relazione tecnica. Stando così le cose, i vigili urbani da là devono andarsene e corsa contro il tempo per trovare una nuova sistemazione. La più verosimile sembra quella dei locali di Via Valverde che per anni hanno ospitato le scuole, ma l'assessore Caracappa non si rassegna e annuncia un nuovo incontro con il commissario liquidatore delle terme per cercare di raggiungere un accordo anche se Turriciano almeno al momento appare irremovibile.